azioni complessive però la scelta di sinistra italiana non è stata questa di personalizzare però è stata quella di scegliere dei candidati anche bandiera per delle questioni e alcuni anche che hanno fatto molta polemica, mi riferisco soprattutto alla candidatura di Ilaria Salis. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo deciso di non candidare i leader proprio perché pensiamo che non sia molto serio chiedere alle persone un voto su nomi e cognomi di persone che poi non vanno seriamente al Parlamento europeo e questo si sa già in anticipo quindi siamo convinti che questo sia un errore da parte di chi l'ha fatto in particolare della Presidente del Consiglio che è chiaramente la massima espressione del nostro governo e quindi forse si avrebbe fatto meglio a restare incollata agli impegni di governo invece di confondere le due cose, la rappresentanza istituzionale dell'esecutivo e dall'altro la campagna elettorale di un singolo partito. Diciamo anche che naturalmente le liste delle europee, essendo liste che devono parlare all'intero paese, hanno anche al proprio interno persone con una lunga esperienza o persone le cui storie rappresentano qualcosa per tutti e noi pensiamo che la storia di Ilaria Salis abbia molto a che vedere con l'Unione europea perché poniamo per l'esattezza una questione che riguarda l'Europa. Può un paese come l'Ungheria di Orban, molto traballante dal punto democratico, tanto che alcuni la definiscono una democratura. Non rispettare la dignità di una cittadina italiana ed europea detenuta per qualsiasi reato a prescindere dalle accuse che vengono mosse. Può tenerla per più di 13 mesi in detenzione cautelare tra le cimici senza vestiti puliti, addirittura non dandole le assorbenti quando hai il ciclo, dentro una condizione che non è compatibile con la cultura giuridica europea. Allora la questione che noi vogliamo porre attraverso questa candidatura è proprio una questione programmatica. Che cos'è l'Europa oggi e che cosa sarà domani se tiene al suo interno paesi che non rispettano i diritti umani? Io credo che noi rischiamo sostanzialmente di perdere la bussola della ragione per cui l'Europa è nata, del percorso che deve fare per affermare valori e principi che non sono purtroppo affermati in tutto il mondo. Allora è pazzesco che si tratti così una cittadina italiana ed europea, è pazzesco anche che il governo non sia nemmeno riuscito ad ottenere che la seconda volta Ilaria Salis non fosse portata a guinzaglio al processo, dopo che le prime immagini avevano destato grande scandalo. Siamo in una condizione io penso inaccettabile, penso che la candidatura di Ilaria e la sua elezione costringeranno il Parlamento europeo a discutere di che cosa sta accadendo in quel paese. Lo costringeranno perché una volta eletta si dovrà discutere della sua immunità e quindi si dovranno prendere delle decisioni e dei provvedimenti che allo stato attuale non sono ancora stati presi, quindi non è una candidatura a chi ha pavoti come leggo nel titolo, ma invece è una candidatura che incide proprio su una questione programmatica europea. Franco Bechis, questa è una candidatura che è una candidatura che incide proprio su una questione some